Buonasera dal TG6, in apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Giulianova. Nel giorno di convalida dell'arresto di Dante Silvestre, il 59enne che martedì scorso ha ucciso con una coltellata al cuore Paolo Cialini a Giulianova, il procuratore capo della Repubblica di Teramo lancia un appello ai cittadini giuliesi. Lisa Leuzzi. Procuratore, lei oggi fa un appello ai cittadini di Giulianova, quindi secondo lei c'è omertà? Non ho detto che c'è omertà, io ho detto semplicemente che quando ci si indigna per un fatto cruento, poi a questa indignazione bisognerebbe essere conseguenti e quindi a questa indignazione dovrebbe conseguire una collaborazione di cittadini per la dinamica dei fatti avvenuti in pieno centro, in un'ora centrale, alla presenza di balconi, finestre, barre e che si è prolungata per lungo tempo, alla presenza di una bambina che piangeva e che strillava, non è pensabile che nessuno abbia visto o sentito niente. Quindi l'appello alla collaborazione ha collaborato con il rispetto e la stima che ho verso la popolazione di Giulianova. Posso confermare che la bambina era nella macchina ed ha assistito purtroppo a questa vicenda terribile in cui il proprio padre veniva accoltellato al cuore da parte dell'arrestato. Che cosa abbia detto la bambina o non detto non ve lo posso dire. Io ho atteso oggi solamente perché solo oggi avevamo i risultati dell'esame medico-legale. Solo oggi c'è stata la discovery perché stamattina c'è stata la convalida della decisione dell'arrestato da parte del GIP e quindi tutti gli atti sono stati depositati, quindi vengono meno le esigenze di riservatezza. E inoltre dovevamo approfondire l'eventuale presenza o meno di altre persone su cui stiamo lavorando. Oltre alle dichiarazioni rilasciate da Di Silvestre, i fatti che in qualche maniera sono stati inizialmente ricostruiti che avrebbe appunto il Cialino prima aggredito il Di Silvestre, c'è attendibilità su questo? Noi abbiamo perplessità naturalmente sulla dinamica che c'è stata fornita dalla persona arrestata. E quindi è per questo motivo che naturalmente abbiamo richiesto la convalida dell'arresto. Proprio perché riteniamo che le dichiarazioni dell'arrestato non appaiono a nostro viso credibili. Finora gli unici motivi che sono emersi sono relativi a un contrasto per ragioni stradali. Altre situazioni, al di là di queste pseudo voci, noi non abbiamo riscontri concreti. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Monte Silvano. Un uomo di 69 anni di origine romena è rimasto ferito questa mattina mentre stava facendo il bagno sulla spiaggia libera nei pressi dello stabilimento Copacabana. Le onde lo hanno sbattuto contro gli scogli più e più volte e non è riuscito a mettersi in salvo a causa del mare molto mosso. È stato soccorso da un bagnante che lo ha condotto a riva mentre l'altro si è rivolto a Polizia 118 facendo arrivare l'ambulanza. È accaduto alle 8 di questa mattina quando il servizio salvataggio non era attivo ed è finito all'ospedale di Pescara ricoverato con una prognosi di 40 giorni avendo riportato fratture multiple alle costole. Ancora cronaca, Nico Barone, il coordinatore di Casa Pound a Lanciano di 26 anni è stato aggredito questa notte da ignoti sotto casa mentre rientrava dopo una riunione politica in vista del ballottaggio di domenica. Barone è stato malmenato al viso ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove è stato sottoposto a TAC. La prognosi è di 5 giorni salvo complicazioni. La polizia sta indagando e ha prelevato la cartella clinica dell'ospedale. Secondo le prime considerazioni sarebbe stato colpito di sorpresa alle spalle e non ha avuto il tempo di vedere i suoi aggressori. Casa Pound si è apparentata per il ballottaggio di domenica con la candidata del centrodestra a Tonia Paolucci, cosa che ha scatenato polemiche furiose in città. Qualora la Paolucci dovesse vincere il Casa Pound si aprirebbe la porta del Consiglio Comunale con un eletto. Ieri Barone in una nota aveva affermato che il fascismo è il suo riferimento politico. Si è tenuto questa mattina a Pescara il tavolo di concertazione per l'attività di adeguamento del piano regionale dei rifiuti e tante sono state le novità. Ce ne parla Paolo Rensetti. Il tavolo di concertazione che preordina il percorso per portare questo nuovo piano di gestione dei rifiuti in Consiglio regionale nel più breve tempo possibile, adeguamento che fin dal novembre 2014 prevede un unico scenario che è quello dell'economia circolare, ovvero si esclude ogni tipo di ricorso a impianti di incenerimento di varie si fatta portate e si predilige, si cerca di promuovere, si promuoverà la progressiva riduzione dei rifiuti. D'altro canto i dati che ci provengono dalla raccolta differenziata che sono in progressivo e costante aumento fin dai primi mesi del 2015 ci inducono a pensare in positivo, così come ci induce a pensare in positivo la posizione che noi abbiamo assunto nei confronti dello schema di decreto inceneritore del governo centrale a cui noi ci siamo opposti in maniera ferma è decisa in quanto nello schema non è stata riportata una delle precondizioni che noi avevamo fissato in sede di conferenza delle regioni e poi di Stato regioni, ovvero la compatibilità con il piano di gestione dei rifiuti regionali. Purtroppo nel frangente c'è stato in maniera autonoma questo parere in qualche preliminare di arte di non assoggettabilità a VAS dello schema di decreto inceneritori, uno schema di decreto che ricordo prevede l'installazione di 11 inceneritori sul territorio nazionale, mi viene da sorridere perché il governo prescrive la assoggettabilità a VAS del piano del parco nazionale Gran Sass, ovvero un piano che per sua stessa natura è preposto alla tutela e tra la guardia del territorio, atteggiamento incomprensibile che quindi si scontra con quelle che sono le nostre prelocative. Operazione Mare Sicuro 2016 è il protocollo dell'estate che vede la sinergia tra Guardia Costiera, Polizia Municipale, Comune di Pescara, Camera di Commercio e Croce Rossa per garantire la sicurezza di tutti i bagnanti. Vediamo. Il protocollo ha un senso nella misura in cui ognuno svolgerà quello che normalmente svolge, la firma di questo protocollo favorisce un'integrazione tra i diversi compiti in maniera tale che ci sia una presenza armonizzata sulla spiaggia, una presenza discreta che nelle finalità di chi sottoscriverà lei all'accordo è proprio quella di garantire un'estate sicura, tranquilla con dei punti di riferimento ben precisi in grado di intervenire a 360 gradi, quindi sia sotto forma di soccorso sanitario, sia sotto forma di soccorso tecnico in mare. È un'associazione di soggetti pubblici che hanno le proprie finalità quelle di garantire a vario titolo le attività di soccorso. Noi tra l'altro questo protocollo si inserisce nell'ambito della più ampia operazione che noi svolgiamo tutti gli anni, nota con il nome di Mare Sicuro. Due giorni fa c'è stata la presentazione ufficiale di questa nostra campagna estiva alla presenza di tre ministri che sono quei tre ministri nostri di riferimento, il ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro dell'ambiente, il ministro delle politiche agricole, proprio perché a livello periferico il corpo delle campioniere di Porto e Guardia Costiera svolge quella funzione di sportello unico in grado di garantire nel caso specifico dell'estate una sicurezza tutto tondo, quella di chi dei bagnanti, quella dei consumatori di prodotti ittici che aumenta la richiesta durante l'estate e quella dell'ambiente per lo scopo di garantire per quanto è possibile un mare pulito chiaramente ma con riferimento alle attività di prevenzione e di repressione dell'inquinamento. I consiglieri comunali di Forza Italia si scagliano contro l'amministrazione Alessandrini per sul metodo e nel merito dello studio di fattibilità affidata a una società esterna per il futuro delle aree di risulta. Ascoltiamo. Vinceco c'è questo studio di fattibilità sulle aree di risulta portato avanti dalla giunta Alessandrini che non vi trova d'accordo, perché? Partiamo dal metodo, innanzitutto noi crediamo che un'amministrazione comunale debba innanzitutto dire cosa vuole fare all'interno di queste aree di risulta e non immaginare di spendere quasi 50 mila euro per uno studio di sostenibilità che non riguarda il progetto ma riguarda solo la sostenibilità finanziaria di un'idea. Poi partiamo da un'altra questione, 13 mila euro di campagna pubblicitaria per una campagna pubblicitaria che non ha nulla di concreto e poi un metodo da contestare perché questa opposizione vuole assolutamente contribuire a che si chiuda questa storia delle aree di risulta ma vuole contribuire confrontandosi sulle idee e non esclusivamente su uno studio di fattibilità che ha una serie di lacune che noi abbiamo evidenziato questa mattina. Partiamo dal fatto che quest'area e questo studio di sostenibilità assolutamente non tiene conto della contestualizzazione delle aree di risulta e tutto quello che è il centro della città. Si parla di 8 mila metri quadrati commerciali, allora che cosa diciamo alla città di Pescara e alla zona centrale dove in qualche modo quasi tutte le amministrazioni hanno parlato di centro commerciale natunale quando poi si pensa di realizzare 8 mila metri quadrati di commerciale all'interno di quest'area, dove sono i box per i residenti, una risorsa fondamentale per cercare di togliere le auto dal centro della città, perché una gestione ventennale di parcheggi in quell'area con molti introiti e quindi con una operazione senza rischio inviditoriale, perché 12 milioni di euro del masterplan andranno in quest'opera? Ci sono tanti punti oscuri e noi crediamo che questo progetto, che non è un progetto ma solo una idea che nasce dalla sostenibilità e da un progetto di sostenibilità economica finanziaria va rivisto e noi siamo qui in questo Consiglio Comunale per collaborare ma se questi sono i punti di partenza noi siamo qui per bocciare queste idee. Dopani mattina a Teramo si svolgerà l'inaugurazione del nuovo parco giochi e della nuova area riqualificata nella tanto discussa zona ex Gattile di Colleparco. Vediamo. finalmente la zona tanto discussa di Colleparco dove c'era il Gattile prende nuova vita, ricordiamo che cosa è stato fatto, qual è l'intervento che è stato fatto appunto in quella zona? Sì, fa bene a ricordare nel 2009 quando ci siamo insediati lì era, se non ricordo male, 50-60 cani, 200 gatti, una struttura posizionata su un parco pubblico che vi era da oltre 20 anni quindi è stato molto difficoltoso riuscire a togliere e liberare quest'area ma soprattutto abbiamo speso dei soldi PISU appunto per oltre 1.200.000 Euro appunto per realizzare una serie di giardini, la piazza, parcheggi ma soprattutto abbiamo riqualificato campo per far giocare i giovani, un parco per i ragazzi di giovane età e quindi abbiamo fatto sì che questo quartiere considerato sempre un quartiere dormitorio possa essere invece un quartiere a misura d'uomo, a misura di famiglia e questo ci fa piacere e domani vi invitiamo alle 10.30 appunto a farsi una passeggiata insieme perché così vi potrete rendere conto veramente di quello che è stato realizzato. Sul caso dell'avvertenza Brioni continua il lavoro dei sindacati e soprattutto continua a cercare una posizione condivisa fra tutte le parti, allora oggi abbiamo ascoltato la CGL. Qualche giorno fa c'è stato un incontro a Roma per l'avvertenza della Brioni e quali sono le novità emerse? Sì, il 14 è stato un incontro al Ministero, diciamo che abbiamo fatto un notevole passo in avanti anche se non è la soluzione definitiva del problema perché come abbiamo sempre chiesto l'azienda ci ha chiesto la proroga della mobilità solo su base volontaria con l'unica requisito non opposizione al licenziamento e per la prima volta ha fatto la dichiarazione che almeno fino alla fine del di luglio non apre procedure di mobilità forzata, quindi andremo alla riunione di verifica alla fine del mese di luglio. Noi continuiamo a chiedere quali sono le motivazioni per le quali l'azienda non vuole discutere di cassa integrazione, non ci basta una risposta perché no, noi siamo disponibili, siamo assolutamente noi quelli che vogliamo che l'azienda continui l'attività, ma chiediamo rispetto nel senso che la nostra posizione è chiara, è disponibile ma non è subalterna, questa è la regola principale che nelle relazioni sindacali l'azienda deve capire. Sarà un'estate calda per i lavoratori della Brioni? Noi speriamo di no, noi lavoriamo perché non lo sia, noi lavoriamo perché il conflitto non ci sia, perché questo è un mercato che non ha bisogno di conflitti. Il dottor Castano in rappresentanza del Ministero ha detto chiaramente all'azienda se c'è un problema, se si eleva il conflitto c'è un problema che interviene anche sul mercato, noi siamo per non favorirlo, per attenuarle, per quindi andare a un'estate tranquilla. L'azienda deve fare altrettanto, questo è il discorso che facciamo. Inizieranno la prossima settimana i lavori di adeguamento antisismico al plesso della Scuola di Amicis di Giulianova. La fine del 2017 saranno 5 milioni di euro investiti dal Comune dal 2009 per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. È un risultato, un obiettivo importantissimo che si inserisce come un tassello in quel puzzle che abbiamo iniziato nel 2009, che ha come obiettivo di mettere in sicurezza tutti i plessi scolastici della città di Giulianova. Questi lavori, finanziati con 547 mila euro grazie a dei finanziamenti intercettati con il lavoro di squadra di questa amministrazione, che fanno il paio con quelli pure essi intercettati attraverso un finanziamento regionale di oltre 800 mila euro per la messa in sicurezza del plesso della Scuola Media Bindi, dicevo, metteranno in sicurezza i locali dove i nostri ragazzi frequentano la scuola primaria. Un edificio che risale al 1914 che alla fine dei lavori che faremo di tutto affinché si completino prima della ripartenza delle lezioni dell'anno scolastico si andranno ad inserire in un impegno che dal 2009 al 2013 ha interessato scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie per un impegno di quasi 4 milioni di euro e che alla fine dell'anno 2017 arriveranno queste risorse impegnate a quasi 5 milioni. E questa mattina a Pescara il Comune si è tenuta la commissione dedicata allo sport e all'ordine del giorno l'annullamento dell'edizione 2016 del trofeo Matteotti e si punta a trovare risorse per il prossimo anno. Presidente Scurti questa mattina c'è stata la commissione sport all'ordine del giorno l'unico punto il trofeo Matteotti che è stato annullato per l'edizione del 2016 una commissione sport molto accesa. Cosa è venuto fuori? Beh sono venute fuori tante belle situazioni anche da parte sia della maggioranza che dell'oppunzione sicuramente da parte nostra c'è tutto il dispiacere di non poter in qualche maniera dare forza questa manifestazione storica sportiva anche culturale che da tantissimi anni caratterizza Pescara non solo il territorio di Pescara ma anche tutta l'Abruzzo. Da parte nostra c'è e ci continuerà a essere un'attenzione in qualche maniera verso tutte le manifestazioni sportive e soprattutto al Matteotti. Per quest'anno per questioni organizzative purtroppo non è stato possibile mettere in atto questa manifestazione. Però da parte dell'assessore, da parte tutta l'amministrazione c'è la volontà e la voglia di ridare forza insieme agli organizzatori ma soprattutto anche insieme a tante realtà imprenditoriali e territoriali che in qualche maniera dovranno darci una mano ad organizzare e a portare avanti questa manifestazione. Un dato che è venuto fuori che sicuramente la manifestazione dovrà in qualche maniera maggiormente caratterizzarsi non solo per l'evento ciclistico ma anche dare degli spunti nella stessa giornata o nelle giornate precedenti ad altre situazioni che daranno forza alla manifestazione tutta. Il 25 e 26 giugno a Tortoreto si svolgerà il raduno dedicato alle Ferrari, valevole come quattordicesima edizione del Memoria alla Bramo Guercioni e l'organizzazione dell'associazione sportiva Scuderia Ferrari Club di Villarosa. Quest'anno ci siamo dedicati molto a Tortoreto perché la location ci piace tantissimo, io sono tortoretano, ho delle attività commerciali qui a Tortoreto oltre che a Giulianove, naturalmente interesseremo anche Martinsicuro dove c'è appunto la sede del nostro club. Che cosa accade? Accade anche il fatto che grazie all'apporto logistico e tutto quello che è servito per organizzare questa cosa, noi insieme al comune di Tortoreto di Giulianove siamo riusciti a organizzare anche quest'anno questo splendido raduno. Sì, ormai è dal 2001 che ho perso mio padre e questa è sempre l'occasione di anno in anno per rinnovare ovviamente la sua memoria. Questi giorni sono giorni abbastanza tristi perché in realtà ho perso sì mio padre e quindi oggi è un giorno dove lo ricordiamo, ma in realtà ho perso martedì un socio, un amico che è Paolo Cialini, che tutti oggi conosciamo insomma, no? Quindi sono abbastanza emozionato per due eventi. Raccogliamo un po' sia dalle Marche e sia dell'Abruzzo perché diciamo dopo di noi nelle Marche la più vicina è a Potenza Picena, in Abruzzo ce n'è un altro ma sta in provincia di Chiedi, a Tessa, quindi diciamo tutta questa zona qui raccogliamo noi, però insomma sì, però ci tengo a precisare che non è a livello nazionale, è a livello mondiale, sì perché diciamo la Ferrari stila una classifica e raccoglie, diciamo, tiene in considerazione tutti i club ma nel mondo però. E quindi lo diciamo perché sicuramente i telespettatori importerà molto, che posizione ricoprite a livello internazionale? A questo punto a oggi è il quindicesimo. Torna a Teramo la magia delle corse in occasione della rievocazione del circuito del Castello in programma domani che ripercorrerà lo stesso percorso di oltre mezzo secolo fa. Saranno chiuse al traffico alcune strade cittadine per consentire lo svolgersi delle manifestazioni che prenderà il via alle 15.30 del pomeriggio per concludersi alle 20 con la premiazione. Vediamo. Presidente, l'automotive in Abruzzo rimane un punto di forza, un punto di eccellenza anche per quanto riguarda l'occupazione. Sì, ci tengo a precisare ancora una volta che Automotive in Abruzzo non è soltanto Val di Sangro ma è anche e tanto provincia di Teramo. Qui ci sono le migliori aziende a livello tecnologico e anche di innovazione e di ricerca proprio nel settore dell'automotive. Praticamente produciamo quasi tutto, ovviamente in maniera settoriale per pezzi. È una vettura che deriva da una macchina normalmente in vendita, Alfa Romeo 4C. Da questa è stata appunto cannabilizzata il telaio e altri particolari ed è stato fatto uno sviluppo portato e finalizzato ad avere un mezzo estremamente competitivo sia in peso che in potenza e quindi siamo scesi di parecchi chili dalla macchina già leggera che è appunto la 4C e abbiamo incrementato la potenza in maniera notevole con un 1.750 turbo che raggiunge il considerevole numero di 600 cavalli. È un progetto, dicevo, abbastanza ardito perché sapevo quando mi sono messo in mezzo, appunto in mente questo progetto che avrei incontrato parecchie difficoltà allungo il percorso, però non pensavo che costruire una macchina direi da zero fosse così complesso. Ho avuto un supporto notevolissimo da parte appunto degli ingegneri che lavorano in picchio e che lavorano in Mirage. È stato fatto tutto questo con molta passione, molta se vogliamo tecnologia e adesso stiamo iniziando a sviluppare il mezzo e dovrebbe essere appunto esordire entro la fine dell'anno in qualche gara. È stata diramata la lista dei vincitori della dodicesima edizione del premio Rocchi Marciano che si tiene a Ripatiatina, paese di origine del grande e indimenticato pugile americano. Il titolo sportivo dell'anno va a Massimo Oddo, allenatore del Delfino Pescara e neopromosso in Serie A. Gli altri riconoscimenti decisi dalla giuria presieduta dal sindaco di Ripatiatina, Ignazio Rucci, sono e dall'assessorato allo sport Gianluca Palladinetti, all'ideatore della manifestazione Mauro Petrucci. Il premio Rocchi Marciano al pugile dell'anno va a Leonard Bundu, il premio invece al libro sportivo dell'anno a Gianni Rivera con Gianni Rivera, autobiografia di un campione. Ora parliamo di La Padula, la stretta finale per le sorti del bomber biancazzurro. In dirittura d'arrivo c'è la trattativa con il Napoli, con La Padula, anche Caprari finirà al Napoli ma resterà in prestito un anno in riva all'Adriatico e restano alla finestra le altre pretendenti, Juventus, Sassuolo e Genoa. Andrea Costantini. Gianluca La Padula a decidere la sua destinazione. Per la firma bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana quando riprenderanno le trattative che comunque sono giunte all'ultimo stadio. Con tutte le pretendenti al capocandoniere della Serie B il Pescara ha raggiunto degli accordi. Quale quello che si formalizzerà lo rivelerà la volontà del calciatore anche se il Napoli per stessa ammissione del presidente Daniele Sebastiani è in vantaggio. Credo che sceglierà Napoli, ha affermato il numero uno biancazzurro. Proprio con il patron azzurro dell'Aurentis c'è stata ieri un'ulteriore e probabilmente decisiva accelerata il cartellino di La Padula, valutato sui 9 milioni, più quello di Caprari, 3. 12 milioni di euro pronti ad essere versati per i gemelli del gol del Pescara con la promessa che Gianluca Caprari potrà restare un altro anno in rival adriatico in prestito. La Padula proderà all'ombra del Vesuvio a rassicurarlo il tecnico partenopeo Sarri. È vero che davanti l'Apa avrebbe un mostro sacro come Guain, ma Sarri ha garantito un occhio di riguardo per un attaccante che sì deve ancora esordire in A, ma che nelle ultime due stagioni è stata una vera e propria macchina da gol. Nella trattativa potrebbe confluire il portiere Luigi Seppe, ex Virtus Lanciano, che il Napoli girerebbe una stagione in prestito. Restano a questo punto alla finestra le altre pretendenti, in particolare Juventus, Sassuolo e Genoa. La Juventus e il Sassuolo potrebbero condurre l'operazione in sinergia con la pagolla alla corte di Di Francesco in prestito dalla Juventus o diventando di proprietà del Sassuolo e stabilendo un diritto di ricompra a favore dei bianconeri. Per fronteggiare la partenza di La Padula resta la suggestione Alberto Girardino, che ha però uno stipendio importante. Già detto nei giorni scorsi di Trotta del Sassuolo e Monachello dell'Atalanta, altro nome spendibile è quello di Federico Macheda, attaccante romano cresciuto nel Manchester United e ora di proprietà del Cardiff City, il quale aspetta l'opportunità di un rilancio dopo i tanti guai fisici delle ultime stagioni. Sempre ieri il presidente Sebastiani e il DS Inpectore Leone hanno incontrato la Roma per discutere di Alessandro Crescenzi e Daniele Verde, entrambi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Fumata bianca per Crescenzi, che per una cifra sui 300 mila euro resta in biancazzurro. Verde al momento tornerà alla Roma, poi si vedrà. Intanto la società ha ufficializzato sul suo sito che il ritiro precampionato inizierà a Rivi Sondoli il 14 luglio e fino al 22. Dal 22 luglio al 3 agosto la seconda parte a Palena, il 10 agosto l'amichevole dell'Adriatico Cornacchia, quasi certamente contro il Perugia, con presentazione della squadra. Ed ora il Teramo, anche qui calciomercato è ufficiale. Cenciarelli lascia la società stamani il calciatore, ha firmato la risoluzione consensuale del contratto. Intanto la società bianco-rossa è pronta ad annunciare il sostituto, l'ex mezzala del Sant'Arcangelo Carlo Ilari. Jacopo Forcello. Sarà Carlo Ilari il primo rinforzo del Teramo per la prossima stagione. Il centrocampista classe 1991, nativo di Ancona, sembra il naturale uomo che deve garantire quantità ma anche inserimenti e reti nel ruolo di mezzala. Nell'ultima stagione Ilari ha giocato nel Sant'Arcangelo di Lamberto Zauli ed evidentemente il tecnico inizia a disegnare la rosa per il campionato che verrà partendo da chi già conosce e ha assimilato i suoi schemi. Ilari è in prestito dalla Juventus ma ha un curriculum che parla di tanta Lega Pro alle spalle, Feralpi, Salò, Barletta, Catanzaro prima di approdare in Romagna dove quest'anno ha giocato 30 partite con 4 gol. Potrebbe essere il sostituto di Diego Cenciarelli che ha ammesso di voler lasciare il club bianco-rosso e con le sirene del Latina che attraggono Amadio per lupo c'è la necessità anche di trovare un metronomo che detti i tempi in mezzo al campo. Ammesso che non sia lo stesso Ilari a poter già ricoprire quel ruolo. Davanti si attende una prima punta, la corsa è tra Andrea Righini che l'avellino è girato al Cosenza ma che di ritorno in terra irpina potrebbe di nuovo fare le valigie e tornare in Serie C. Lo stipendio dell'ex Ponte d'Era però spaventa un po' in via Oberdan e non è scontato che l'esborso in denaro garantisca automaticamente i gol che servono al Teramo. Marco Guidone è un profilo e un nome che gira da tempo, vuoi per il recentissimo passato a Sant'Arcangelo, vuoi perché sembra definitivamente maturato diventando bomber di categoria. Ma il nome caldo sembra quello di Antonio Croce. La punta pugliese ha 30 anni, sembra giunto alla maturazione definitiva con i suoi gol ha contribuito alla salvezza del Monopoli e il lupo lo porterebbe, anzi lo riporterebbe in Abruzzo volentieri. Discorso conferme, nelle prossime ore saranno ufficializzati i rinnovi e i prolungamenti di Chi resta, Caidi, Di Paolo Antonio, Dorazio e Petrella Sicuri, Speranza a buone probabilità da valutare ancora Stefano Scipioni. Intanto come detto la pista latina per Amadio si fa sempre più calda. La società nerazzurra ha avuto dei colloqui con l'agente del calciatore ma per ora al Teramo non è arrivata alcuna offerta ufficiale. Vivarini lo vuole a latina ed è molto facile pensare che a giorni si concretizzerà la sua cessione. E si è parlato di Giro d'Italia ieri sera a Velo con Giulio Ciccone che ha raccontato l'esperienza e la vittoria della decima tappa con l'arrivo a sesto. La vediamo. Il Giro d'Italia ti lascia quel qualcosa che non riesce a darti nessun'altra corsa perché il Giro al di là della sensazione che si prova nel correrlo è una festa che dura 21 giorni, è una festa a partire dalla mattina fino ad arrivare alla sera. al di là della corsa c'è un ambiente fantastico, il foglio firma, il dopo tappa e tutto l'insieme che raccoglie l'emozione del Giro d'Italia. Dell'ultima salita, come ha scritto prima Luciano, mi ha colpito molto la mia freddezza perché spesso anche io ho fatto degli errori, magari ne sbagliarmi a gestirmi, magari andavo troppo forte, troppo piano. Invece quel giorno, nonostante fossi al Giro d'Italia, nonostante la giovanità e tutto, sono riuscito davvero a tenere i nervi saldi perché comunque sia avevo una buona gamba e quindi mi sono riuscito a gestire per tutto il tratto di salita. Corridore che mi ha impressionato di più, al di là del risultato, che alla fine è risultato lui il migliore, quindi parlo di Vincenzo Nibali, io nei primi giorni del Giro vedevo lui come il possibile favorito perché vedevo che anche in salita aveva una pedalata diversa dagli altri e poi purtroppo ha passato quei giorni, quelle due o tre tappe un po' così però quello che mi ha impressionato come stile, come andare in bici, tutto è appunto Nibali che si vede che ha sempre quella marcia in più rispetto agli altri. Per il rientro, rientrerò alle gare il 27 luglio in Danimarca, quindi dal 27 al 31 luglio, adesso ho già ripreso con gli allenamenti, piano piano tornerò a riprendere gli allenamenti in maniera più consistente e poi proveremo a fare un finale di stagione ancora buono. Il Tg6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS